Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela la creatività, quindi tutte le forme di creatività dell'uomo, letteratura, musica, teatro, arte figurativa, fotografia. Nei paesi figli del modello francese si parla di diritto d'autore, è del caso dell'Italia ad esempio, nei paesi figli del modello anglosassone si parla di copyright, cioè diritto di fare copie, quindi se pensiamo anche etimologicamente c'è una sottile differenza concettuale. Grazie.